Se le quasi due tonnellate di marijuana fossero finite sul mercato dello spaccio avrebbero fruttato la bellezza di 18 milioni di euro. Uno sgambetto non da poco ai trafficanti di droga che la polizia di Stato ha fatto con il blitz sulla spiaggia alle foci del Metauro nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana. Un lavoro investigativo portato avanti dalle questure di Ancona e Pesaro di grande spessore dove la sinergia delle due questure è stata di fondamentale importanza per la riuscita del blitz. Il risultato brillante di questi giorni dimostra come il lavoro assiduo intelligente della polizia di Stato ha i suoi frutti. Risalendo da dei sequestri avvenuti qualche tempo fa sia a Durazzo sia nel porto di Pesaro ci ha quasi costretto ad investigare in modo più analitico nella nostra zona soprattutto nella zona costiera di Fano, Marotta e la foce del Metauro. Il risultato investigativo e questa collaborazione con le altre squadre mobili ripeto ha portato questo risultato veramente brillante. Poi apre uno scenario di investigazione a chi era diretta, come veniva distribuita, chi sono altri personaggi che ci sono dietro, ci sono solo i corrieri, quindi si apre un lavoro enorme adesso e che riguarda soprattutto il nostro territorio. Come ha tenuto a precisare il procuratore capo della Repubblica Manfredi Palumbo nella conferenza stampa di sabato mattina nella quale sono stati resi noti tutti i particolari di questo maxi sequestro da record per le marche, si registra un cambiamento nelle rotte della droga verso le coste marchigiane dall'Albania, paese d'origine di questo traffico. La costa marchigiana si presta molto perché c'ha dei canneti, c'ha delle zone dove l'imbosco, l'approdo e l'imbosco è anche molto facile e anche il prelevo della merce. I destinatari è tutto il centro Italia, dalle sigle che si vedono qui sulle balle di Marivana c'è destinazione Perugia, Verona e Bologna. Qui c'è una base molto forte della criminalità albanese, molto attiva non soltanto in questo settore ma anche in altri. Ma perché sono state scelte proprio le coste marchigiane e perché fanno? Non solo per gli aspetti morfologici del territorio, ci sono altri aspetti che devono essere ancora chiariti. Forse un basista nella zona o un posto sicuro dove stoccare tutto quel quantitativo di droga. Dagli oltre 20 agenti presenti sul posto sono stati arrestati due albanesi residenti stabilmente a Fermignano che tentavano di allontanarsi con un furgone già pieno delle balle di droga, 90 ritrovate in tutto, che già recavano sopra i luoghi di destinazione e altri tre componenti beccati in flagrante. Si dà la caccia inoltre ad un sesto già identificato dalle forze di polizia. Il tutto fa pensare ad una organizzazione e una pianificazione meticolosa di questo traffico. Gli scafisti infatti erano dotati di un disturbatore di frequenze per non farsi beccare nelle comunicazioni. E sulla costa sono stati ritrovati oltre 1000 litri di carburante che sarebbero serviti per abbeverare gli oltre 400 cavalli dei motori del fuoribordo, cosa che fa supporre che altri natanti appoggio fossero a largo, da dove il gommone poi faceva la spola con la costa. La costa fanese che da tempo è sotto il monitoraggio degli uomini del commissariato di Fano che hanno preso parte attiva in questa operazione anche con numerosi controlli di persone e luoghi evidenziando un'attività sospetta di persone di questo territorio. Un importante risultato su Fano frutto della collaborazione tra le squadre mobili di Pesaro e Dancona e il contributo del commissariato proprio in termini di controllo del territorio, in termini di supporto poi che è stata data tutta l'attività investigativa svolta da questi due importanti uffici investigativi che dimostra proprio come su Fano siano presenti naturalmente interessi criminali ma c'è un'attenzione da parte delle forze di polizia, da parte della polizia di Stato e quindi del commissariato sempre presente a monitorare questo tipo di situazioni. Questo non è che l'inizio, conclude il procuratore capo. Con questa operazione si è aperta una voragine.